In piazza tante manifestazioni Per non farci protestare, per non farci rendere conto che questo è un attacco indiscriminato alle nostre condizioni di vita E di lavoro Ed è per questo che oggi siamo in piazza Perché non ci stiamo a vedere che i profitti di pochi siano come sempre portati avanti a scapito dei diritti e della dignità di tutti i lavoratori e precari di questo paese Oggi si scende in piazza contro la BCE Ma domani si continua con tutti i percorsi reali portati avanti nel lavoro per unire le vertenze Per dare dignità a chi in questo paese davvero produce la ricchezza Che non sono questi signori che controllano le banche Ma siamo noi Siamo noi che ogni giorno andiamo a cercare di costruirci un futuro A portare avanti una famiglia A cercare di capire come arrivare a fine mese Siamo noi i veri protagonisti Siamo noi che dobbiamo decidere come portare avanti e come uscire da una crisi che non abbiamo creato noi E che stiamo pagando solo noi Ci dicono che non decidono niente Ci dicono che discutono astrettamente di economia Ma questa economia dopo la ritroviamo nei provvedimenti Che il governo, che la regione, che le amministrazioni comunali compiono quotidianamente La chiusura degli ospedali La chiusura dei pronto soccorso Lo smantellamento del trasporto pubblico locale I tagli al salario La privatizzazione della scuola, dei servizi pubblici Sono le conseguenze materiali di quello che decidono a Bruxelles, a Francoforte E che oggi decideranno al Museo di Capodimondo a Napoli Quelli che si riuniscono Sono i tecnici, sono i burocrati Della borghesia continentale europea Ossia dei padroni multinazionali Che hanno deciso Dei politici di macelleria sociale Sono coloro i quali decidono lo smantellamento dello stato sociale Sono coloro i quali decidono che i salari devono essere tagliati E che la precarietà del lavoro deve diventare la generalità della vita delle nuove generazioni Anche per questo, stamattina contestiamo questo vertice E lo contestiamo rivolgendoci anche ai cittadini Anche ai lavoratori Dicendo loro che oggi al Museo di Capodimondo Come qualche altro giorno da qualche altra parte Questi signori, questi assassini in giacca e cravatta Come li abbiamo definiti Decideranno le sorti e la vita di milioni di persone Decideranno il miserimento Decideranno la disoccupazione a vita Decideranno la guerra Anche per questo è giusto contestare questo vertice E' giusto dire a questi signori di tornarsene a casa Che bisogna rompere l'Unione Europea Che bisogna rifiutare i trattati Che bisogna organizzarsi sui posti di lavoro Nei territori, nelle scuole Per difendere il reddito, il salario E la dignità di tutti noi